Ciao a tutti ragazzi siamo ronazzi brosta e sul nuovo gioco è venerdì quattro è venerdì 13 no la grafica cambia ora fattiamo insieme perché non ci ho mai giocato a nulla spero che vi piace questo gioco ditemelo sotto nei commenti e lo cambierò subito lasciate un bel pollice giusto l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale inizia non so perché ci vuole tanto a caricare internet no 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 Grazie a tutti. 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 No... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.